Noi siamo intervenuti con dei provvedimenti nel solco del Codice Rosso, perché noi abbiamo una, in Italia abbiamo sulla violenza contro le donne, una delle normative più avanzate d'Europa, poi però ci siamo resi conto che nell'applicazione della normativa ci sono una serie di falle, soprattutto di tempestività, ma anche di efficacia, perché noi ad esempio abbiamo introdotto per questi casi l'arresto in flagranza di ferita che non era previsto, cioè se la vittima dimostra, non lo so, riesce a fare un video o ha elementi per dimostrare che è avvenuta o che sta avvenendo la violenza, piuttosto che si procede all'arresto, cosa che prima non accadeva, cioè tu eri in grado magari di dimostrarlo, ma quello continuava a girare finché… e quindi siamo intervenuti in tema di efficacia, tempestività, il braccialetto elettronico, l'allontanamento, tutte misure che sulla carta sono giuste, ma che poi nell'applicazione avevano bisogno di essere implementate. Dopodiché però a questo va accompagnato un altro lavoro dottor Bespa, di educazione. Allora noi stiamo lavorando in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a me piacerebbe portare le vittime, i parenti delle vittime, le vittime chiaramente che ci sono ancora, o i parenti di quelle che non ci sono più, a raccontare la loro vicenda nelle scuole, quelli che sono disponibili chiaramente. Perché guardi, una cosa è citare i numeri, i numeri non danno conto, no? Quando dici la violenza contro le donne aumenta, le vittime aumentano più 5%, i numeri non fanno la storia delle persone. Ma quando ti trovi di fronte all'impatto di una persona come te, che ha vissuto storie come quelle che si possono raccontare, io credo che niente sia più educativo. Per cui ho detto tanto al Ministro Roccella quanto al Ministro Valditara che nella settimana, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, bisogna riuscire a fare questa operazione e coinvolgere più studenti possibili.